capitale della cultura in 8 mila aspettano sergio mattarella economia capitale le imprese si uniscono nel logo made in pesaro 24 omicidio pansieri a febbraio via al processo di alessandrini offese social belloni assolto dalle accuse di diffamazione sport continua la crisi vl vittorie pesanti invece per vis megabox buona serata ben ritrovati al nostro telegiornale oggi è lunedì 15 gennaio e apriamo parlando della capitale della cultura infatti sale il termometro dell'attesa verso la cerimonia inaugurale di pesaro capitale della cultura 2024 alla presenza del presidente della repubblica sergio mattarella a cinque giorni dall'arrivo del capo dello stato una partecipata conferenza stampa al centro pescheria ha illustrato i dettagli di una festa che vedrà 8 mila presenze alla vitrifrigo arena saranno oltre 8 mila le persone che parteciperanno sabato 20 gennaio alla vitrifrigo arena alla cerimonia inaugurale di pesaro capitale della cultura 2024 in compagnia del presidente della repubblica sergio mattarella sono state circa 200 però le persone che questa mattina hanno partecipato invece alla conferenza stampa ufficiale di presentazione di pesaro 2024 che segue l'anteprima che c'è stata a inizio dicembre al maxi di roma 8 mila persone sabato per dare il via ad oltre mille eventi di un anno davvero indimenticabile inizia un anno nel quale avremo i riflettori addosso già da settimane ci ci rendiamo conto di avere una visibilità mai avuta per il nostro territorio dovremo dimostrare di essere all'altezza io sono convinto che questa terra è una delle parti migliori del paese attraverso l'offerta culturale riusciremo a promuovere l'intero territorio si parte con una grande festa popolare che inizia con un vitrifrigo arena pieno grazie al presidente mattarella riempie il pala sport come una rock star e poi una grande giornata di festa con max gazzè con casa dei con la festa dei giovani a rosa chemical quindi davvero una giornata per tutti ci sarà la possibilità di stare a pesaro al pala sport dalla mattina alle 10 30 fino alla sera fino alle 3 di notte mangiando divertendosi ascoltando le bellissime parole che ci attendiamo del presidente della repubblica immaginatevi l'abbraccio di 8 mila persone al capo dello stato una cosa già di per sé emozionante 8 mila persone di cittadini che si sono prenotati online di studenti che sono anche studenti oltre 2000 che saranno anche protagonisti di progetti durante durante l'anno e una platea di invitati che va dall'italia all'europa spesso anche al mondo con una forte attenzione a quello che pesa restato in questi anni e soprattutto che vuole diventare ci saranno con noi i rappresentanti delle capitali passate presenti future italiane ed europee da matera a bergamo brescia a parma a mantova bologna che se non capitale però condivide con noi tantissime strategie anche in sede unesco ci sono tante città unesco creative ci sarà la partecipazione dell'organizzazione internazionale dell'unesco delle stelle creative quindi insomma una grandissima attenzione su pesaro per vedere il presente ma per vedere soprattutto dove si vuole andare con questa capitale e penso che sarà la partenza veramente più di impatto che potremmo immaginare. Come sapete più di mille appuntamenti in questi 366 giorni che quest'anno naturalmente prevede sicuramente tra gli appuntamenti di punta ce ne sono tantissimi ma il lavoro più importante è stato fatto con la comunità con la città di pesaro con i comuni quindi sarà oggi l'inizio di una festa ma non saremo soli ma tutta naturalmente la provincia che parte e in parte della regione che seguirà tutto il percorso con noi che è un progetto che in realtà è un connubio perfetto tra la natura e la cultura e ovviamente anche un po la tecnologia e l'innovazione quindi tutte caratteristiche che sicuramente fanno della nostra regione è un po il fiore all'occhiello e soprattutto perché questa anche una terra di cultura se pensiamo ai grandi come lo stesso Rossini che ha avuto i natali nella città di pesaro raffaello quindi che ha lasciato una sua impronta significativa proprio nella in questo comprensorio il bramante insomma tantissimi sono i personaggi della cultura che hanno caratterizzato e caratterizzano appunto la nostra regione anche l'economia pesarese al fianco della capitale della cultura da oggi le imprese del nostro territorio cominciano infatti a comunicarsi a livello nazionale ed internazionale marchiandosi con il logo made in pesaro 24 vediamo di cosa si tratta da oggi l'economia d'impresa della provincia di pesaro urbino associata alla camera di commercio può comunicare se stessa a livello nazionale e internazionale attraverso il tratto distintivo made in pesaro 2024 un logo legato alla capitale della cultura presentato oggi nella sede di una camera di commercio che è stata fra i primissimi partner sostenitori del progetto di pesaro capitale questo logo racconti intanto una storia di successo perché il primo successo abbastanza importante che pesaro sia diventata città capitale della cultura e in questo evento non può che essere per il sistema produttivo un'occasione di grande promozione e in questo contesto la camera di commercio non poteva che essere in prima fila quindi il primo dato che mi sembra doveroso sognare che la camera di commercio finanzia queste le attività di pesaro capitale della cultura e per fare in modo che tutte le imprese non solo i principali sponsor potessero avere la possibilità di essere canali promozionali per questo evento si è definito con il comune la possibilità di presentare questo made in pesaro e oggi comunicheremo al sistema associativo questa possibilità con il relativo regolamento applicativo il logo che è stato nel frattempo definito e anche attualizzato per questo tipo di utilizzo verrà oggi simbolicamente con un invio via mail a tutte le imprese del territorio messo a disposizione per tutti gli usi comunicativi come sapete la prima forma del logo venne presentata addirittura e distribuita ai mobili al salone mobile di milano pochi giorni dopo la nomina a rappresentare quanto per noi le imprese le aziende siano anche un veicolo di promozione della capitale 24 e quanto la capitale 24 voglia rappresentare anche diciamo un marchio di qualità ulteriore per le imprese che hanno fatto grande il nostro il nostro territorio infatti la declinazione che verrà messa a disposizione delle imprese sarà esattamente made in pesaro 24 capitale della cultura e questo tipo di utilizzo sarà ovviamente per tutti gli usi comunicativi quindi dalla francobollo mail alla carta intestata tutti i documenti cataloghi con cui le imprese promuovono il proprio saper fare il proprio prodotto la propria competitività l'impegno finanziato alla camera di commercio è un impegno molto attento agli aspetti istituzionali per cui noi abbiamo finanziato il prima il dopo il durante e il dopo noi per tre anni daremo un finanziamento di 50 mila euro per ciascuno degli anni ma faremo anche un evento in ottobre su mirabilia mirabilia è un'importante istituzione di questo paese ma nazione del sistema camerale ed il sistema camerale che occupa siti unesco noi siamo una provincia che ha un bellissimo sito anzi ne ha due uno a bad urbino uno qui a pesaro e verranno tutti i siti unesco all'interno del sistema camerale sarà un evento di promozione importante e significativo ed ora cambiamo argomento ad 11 mesi dalla sconcertante uccisione del 27enne Pierpaolo Pansieri e dopo ripetute perizie psichiatriche sta per cominciare il processo per omicidio a carico di Michael Alessandrini prima udienza fissata il 5 febbraio il 5 febbraio Michael Alessandrini andrà a processo al tribunale di Pesaro davanti al giudice per l'udienza preliminare sarà la prima di tre udienze disposte su richiesta della procura della Repubblica di Pesaro che ha chiesto il rinvio a giudizio per il 31enne pesarese accusato di aver ucciso Pierpaolo Pansieri allora 27enne il 20 febbraio di un anno fa nella sua casa di Via Gavelli nel centro storico di Pesaro un crimine efferato a colpi di coltellate seguito da una fuga internazionale conclusa con l'arresto in Romania a pochi giorni dal delitto ora Alessandrini è rinchiuso nel carcere di Villa Fastigi dopo essere stato in quello di Ascoli e dopo una serie di moventi deliranti a contestualizzare l'omicidio di Pervaolo col quale sussisteva un rapporto di amicizia di vecchia data a quasi un anno dal delitto Alessandrini andrà in udienza davanti al GUP per rispondere dell'accusa di omicidio volontario aggravato da premeditazione e futili motivi la famiglia Pansieri si è costituita parte civile affidandosi agli avvocati Paolo Biancofiore e Fabio Anselmo Alessandrini arriva a processo dopo una perizia psichiatrica che ne ha attestato una parziale infermità mentale sarà difeso dagli avvocati Salvatore Asole e Carlo Taormina Tribunale di Pesaro che oggi ha visto assolvere l'assessore Enzo Belloni dalle accuse di diffamazione in merito ad un caso di offese social nei confronti di un cacciatore che aveva ucciso un cane Ascoltiamolo intervistato ai nostri microfoni a poche ore dalla sentenza L'avvocato mi ha riferito che il giudice si è espresso il fatto non sussiste, era un episodio che si era verificato qualche anno fa avevo commentato un post su Facebook relativo all'uccisione di un cucciolo di pitbull da parte di un cacciatore che non c'era nome, cognome, niente io mi ero limitato, forse magari per qualcuno avevo esagerato però avevo espresso un sentimento rispetto a una condotta gli avevano sparato uno o due colpi alla testa io ero sul divano con il mio cane e mio figlio che fa 100 foto al giorno al cane mi sono calato nei panni del proprietario del cane il mio sentimento non era certamente quello di condivisione rispetto all'episodio mi sono sentito anche in parte prescelto perché i commenti erano centinaia rispetto ai presunti insulti io sono stato forse l'unico preso in mezzo forse perché magari per il buono ricopro ci può stare anche questo però si vedono tutti i giorni si leggono episodi di maltrattamento nei confronti degli animali e questi mi fanno male essere poi messo sul banco degli imputati per aver esternato un sentimento un po' non è che mi faceva tanto piacere però abbiamo deciso insieme al mio avvocato che peraltro un ragazzo che allenavo io quando era più giovane Gerardo Saragoni Lunghi che voglio ringraziare e avevo espresso un sentimento insomma nei confronti di una condotta del genere e tutto qui diciamo se però sempre avuto fiducia nella giustizia è finita nel migliore dei modi sono stati tutti assolti anche gli altri che erano a processo con me ripeto avevamo deciso di andare avanti a oltranza e insomma la giustizia ci ha dato ragione e a proposito di cacciatori un nostro telespettatore ci segnala queste immagini che mostrano una serie di cartucce di fucile a terra in zona Siligate nell'area Preparco del San Bartolo foto che mostrano l'effetto inquinante dei residui abbandonati nonché indizi di una presunta attività venatoria in area vietata e allora vi ricordiamo come sempre il numero di Whatsapp per le vostre segnalazioni 370-366-7210 ed ora passiamo alla cronaca perché uno scuolabus ha preso fuoco questo pomeriggio attorno alle 14.40 mentre percorreva la strada provinciale 66 in località C. Vagnino nel comune di Urbino due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per sedare il rogo che non ha avuto conseguenze sugli occupanti del mezzo ovvero l'autista e tre ragazzi sul posto anche una patuglia della polizia per indagare sulle cause di un incendio generato da un surriscaldamento derivato da un guasto meccanico vigili del fuoco di Urbino che invece questa mattina le 8.15 sono intervenuti nella frazione pergolese di Montesecco per salvare un cane finito in trappola nella tana di un animale selvatico tana che è stata allargata con una ruspa e il cane salvato e riconsegnato al proprietario la polizia stradale delle Marche ha illustrato oggi le attività svolte nel 2023 appena concluso in cui sono state impiegate 14.900 pattuglie con un incremento del 3% rispetto all'anno precedente le sanzioni sono aumentate del 22% con 49.000 infrazioni accertate i conducenti controllati con etilometri sono stati 19.926 le patenti di guida e le carte di circolazione ritirate rispettivamente 929 e 783 mentre i punti decurtati 74.030 l'assessora alla cultura e all'ambiente del comune di Fano Cora Fattori è stata nominata a Roma coordinatrice delle Marche per Più Europa partito fondato da Emma Bonino un nuovo incarico per l'assessora in odore di candidatura sindaco di Fano per le elezioni di giugno restando a Fano ieri c'è stata la cerimonia del Varo di Acali primo mega yacht di lusso del cantiere Wider realizzato nel portofanese si tratta di un'imbarcazione di proprietà di un armatore spagnolo che rimarrà nella Darsena per almeno due mesi prima di salpare per le isole Baleari è partita oggi la nuova campagna promozionale della regione Marche con il social ambassador Gianmarco Tamberi campione olimpico di salto in alto nonché marchigiano doc che ha scelto la sua regione per vivere e allenarsi nei prossimi mesi sui canali social della regione e di Gianmarco saranno pubblicati nuovi video promo e i nuovi scatti realizzati nelle scorse settimane in cinque località marchigiane una per provincia ed ora cambiamo argomento parliamo di concerti due giorni prima dell'arrivo di Mattarella a Pesaro che sarà seguito dai concerti di Max Gazzè Orchestra Casa Dei e Rosa Chemical la Vitrifrigo Arena ospiterà giovedì 18 gennaio un altro grande evento musicale è tutto pronto per l'arrivo di Claudio Baglioni che debuterà a Pesaro con A Tutto Cuore uno spettacolo nel quale si fonderanno musica e performance artistiche biglietti ancora disponibili sul circuito Ticket One e dai concerti passiamo all'arte alcune opere del compianto pittore pesarese Giorgio Zaffini sono in mostra all'hotel Alexander Museum Palace di Pesaro in un progetto avviato questo weekend in un convegno dall'associazione culturale Storia e Nazione ne parliamo attraverso le interviste realizzate dal nostro Marco Cadeddu Storia Nazione inizia proprio con un evento di carattere artistico quindi non storico non letterario proprio per esaltare in questo caso la figura di Giorgio Zaffini che è stato un grandissimo artista pesarese conosciuto a livello internazionale il quale ha attraversato una vita dove la sua forma artistica la sua manifestazione è stata filtrata attraverso la sua interiorità la sua sensibilità e la sua grande capacità di immedesimarsi nel mondo intorno a lui attraverso anche processi di carattere simbolico un personaggio veramente molto interessante a me legato per il fatto che oltretutto era anche mio collega nell'amministrazione provinciale dove gli lavorava sono molto orgoglioso di questo invito perché Giorgio Zaffini è stato un pittore molto importante per Pesaro e per la cultura pesarese e non solo sono 20 sono le ultime creazioni che ha fatto negli ultimi anni di vita sono forse le più intrise di significato simbolico della sua opera artistica mio padre mi ha lasciato tante opere d'arte e sinceramente pensavo che fosse veramente un peccato lasciarle dentro le cartelle e ho voluto comunque continuare a far emozionare le persone come piaceva a lui mostrando i suoi disegni alle persone la sua opera è monumentale molto bella e molto particolare poi con una tecnica affascinantissima che è quella della matita per cui insomma mi tocca molto da vicino anche perché la matita è un elemento stupendo soprattutto per parlare di un elemento simbolico quello che è il babbo di Simone insomma ci racconta Giorgio Zaffini la prossima iniziativa importante della nostra associazione altrettanto importante sarà quella con Diego Fusaro che il 7 febbraio si recherà nella nostra stessa città in questo stesso posto l'Alexander Palace Hotel per tenere una conferenza intervista dove lo intervisterò sulla fine del cristianesimo che è stato il suo terzo ultimo libro e che è dove affronta in maniera ciclopica un altrettanto ciclopico problema e come sempre come tutti i lunedì chiudiamo questa edizione parlando di sport continua purtroppo la crisi VL nonostante il cambio di allenatore negli altri sport invece arrivano vittorie molto pesanti per Vispesaro Megabox Vallefoglia e Pesaro Rugby vediamo un quarto di lotta la pari e poi Napoli travolge Pesaro a coach Sacchetti non riesce il miracolo alla prima sulla panchina della VL la GV Napoli che viaggia con media al tiro impressionanti rende impietoso l'attuale paragone di valori con la Carpegna Prosciutto Basket e alla Sirena il tabellone sentenza 93 a 75 sconfitta netta per Tambone Compagni VL che resta terz'ultima e tifoseria Bianco-Rossa che continua a contestare la società a colpi di striscione in mostra al ritorno da Napoli basket che intanto regala un sorriso in Serie B con l'Ital Service Loreto che vince a Pescara 63 a 70 nel calcio vittoria rigenerante per la Vispesoro che ha ragione dello scontro diretto di Olbia chiamandosi fuori dalla zona play-out subito assegno il nuovo acquisto Nicastro che mette a referto il gol partita nel cuore del primo tempo capitalizzando con una girata un'azione nata su sviluppo di rimessa laterale in Serie Diva invece in scena un surreale derby fra Fane e Fossombrone 0 a 0 in campo e 0 ultra sugli spalti con il tifo fanese a prestare la società per il caro biglietti nel calcio a 5 l'Ital Service Pesoro inaugura il girone di ritorno con un 2-2 di carattere in casa della L84 Torino priva di Murillo Schiocchette Miguel N dell'ultimo acquisto 1 franc Pesaro va sotto 2-0 nel primo tempo ma rimonta con tenace nella ripresa grazie alle reti di Moabz e Vava nel volley altra vittoria pesante per la Megavox Vallefoglia che supera in 4-7 una Corea Ciacunio e raggiunge il sesto posto in classifica superando Pinerolo alla quale andrà a far visita sabato per un confronto diretto che vale doppio in chiave playoff playoff che intanto la Megavox difende con 6 punti di distanza dal nono posto nel rugby ossigeno in lotta salvezza per la Fiorini Pesaro che inaugura il suo 2024 vincendo in trasferta in casa del Valpolicella con un 28-26 che vale 4 punti in classifica siamo davvero arrivati alla fine del nostro telegiornale ma questa sera rimanete con noi perché dopo la seconda replica di questo telegiornale alle 21.20 c'è un nuovo appuntamento con l'argomento del cyberbullismo un argomento veramente molto importante in questo approfondimento che si chiama affrontare le minacce della rete capire prevenire proteggere questa è la terza puntata quindi vi aspettiamo questa sera e poi domani vi aspetto io invece alle 7.20 in diretta sul canale 80 in diretta sui nostri social e anche sul nostro sito e poi vi ricordiamo che domani torna una nuova puntata di Amministrando domani avremo come ospiti Lorenzo Lugli che è consigliere comunale e anche Giovanni Dall'Asta anche lui consigliere comunale chiaramente di fazioni diverse quindi vi aspettiamo domani martedì 16 gennaio alle ore 21.20 grazie per averci seguito buona serata grazie per averci seguito